Se sei un leader e prendi tu l'iniziativa, non solo nelle missioni facili, ma anche in quelle difficili. Un bravo leader deve capire le persone che ha sotto di lui, deve capire le loro necessità, i loro desideri e in parte anche quello che pensano. Era come se sapesse sempre prendere la decisione giusta. Era un vero soldato. Come per la maggior parte degli ufficiali, non credo che mi sarei buttato nel fiume con lui, ma era uno dei migliori. Si buttava a capofitto. Non ha mai pensato di andare per ultimo o di mandare qualcun altro al suo posto. Non so come si è sopravvissuto, ma c'è riuscito. La fine è un'alla. La fine è la fine. La fine è di tutta per noi. Non Paese assolutzo. Non solo che sia una volta che tratta schedule. No, 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 no.